musica 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 eeeh te che da acquistare armi te che soldi no ma vai perchè ah hai riscaldamento perchè c'è riscaldamento eh non so se gira a mate eh per le notizie di suon fattore c'è una pistola a me ecco cosa vuoi di fare ma non so ma che l'agri ah anche già a 4 oh shit ma vaffanculo ah un'altra cosa in questa modalità agri se ti decopiuno te faci su raso arma più c'è valga l'arma ecco perchè ha trovato un fucile così a caso boh mi occupa 8 versioni col block perchè Matti non dice niente non 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 ti ha cazzato una flash bag deficiente ti ha fatto danno? no ha dato il cicco per qualche secondo nooo che c'è ma l'arma dei albi ah ah addio madonna che c'è questo eh ha cazzato una fumogena vuoi che scorre usare? inquinato l'ambiente eh Marco passami in ora siamo in 4 ma come si fa a cattare sull'arma? ti passi su... non so ti passi solo in teoria se ti hai un'arma ah ehi scampia nooo di premere e di premere e ai 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 no sono senza armi ed è che ci fai fatto sopra me l'ha dato subito ah era uno sopra c'è il negro ah che cazzo è questa flashbang? coglioni no Marco non mettere il giro cioè l'automatico no ma vai figa basta con questo flashbang vaffanculo ahah 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 ma qua c'è il motivo di giocare o fare il cazzate qua pensai che viene morto Agri fermo la fermo 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 no fermi fermi ahahahah posso vedere una roba da Agri eh in 15 secondi non riesco eh dopo appena comincia la partita ahah ahah stiamo in 4 4 conto 3 fermi 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 ahah ahah oh finalmente era ora sempre ma adesso nooo tutte le kill resettate n'abbiamo niente fermi tutti devo farlo vedere una roba adesso ma c'è questo che ho in 3 guagnati si 3 contro 4 ragazzi 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 che ragazzi girate a destra Agri vai dai che hanno giù una granata ma come granata granata oggi oggi granata ero indietro una granata anche qua ci possiamo ammazzare da soli eh ah è vero ah si? si si non stai sparando a Drio no 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 300 dollari per ora ha ucciso qualcuno la bomba la bomba la bomba no bastardo maledetto no 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 ho c'è che voglia eccola io tutti quanti premi niente vai ah ma sono tutti morti no no yeah contrastico ahahahahahahahah ahahahahah vai Matti Matti ha disi di scava fermo si si fermo che è qua che dia come ho se hai come vado eh ieri tu di me ma dai fuori tutti quanti che mostri tutti morti oh madonna che ho cliccato io desert anche ho giocato i no guardami li morto per terra oh capi Mamma, c'è mai da un cattico il cecchino? C'è... Uuuuh, io ho fatto Marco! Io ho fatto fuori Marco! 13 di VTAG! Hai presente dove c'è il palazzo quello blu? No. Dietro, dove c'è... Entri nel negozio, vai nel palazzo dietro. Eh. E c'è scritto Zid. Ah, quindi è venita Ram rubato? Hai Cristian? Oh, oh, cazzo mi spari! Ma vaff... No, hai di trovare il bastardo! È morto, è morto. No! Alvi sopra! Hai raccopro ancora vivo! Guarda! Guarda il mio bellissimo cadavere! Via, via, via! Via, Cristian! No, no! Salvatemi! Nooo! Salvatemi! Nooo! Bastardi! Nooo! Neanche esplosa! Ah! Ah! Vittaci! Marco, sono a zero! Io vedo tutto qua! Tutto il kit del piccolo... Bobbarolo! Il carico del rom è fatto! Adesso l'altro carico, eh! Edo, 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 edo! Ah va in figa No, bastardo Marco è nascosto e è camperato come una puttana Nooo Esatto, vedi, è la Eh, è la Eh, te l'ho detto che era la Eh, sono matti, non dico di pasta e morirà Ma basta che la mori Io non ce l'ho Oh raga, ho una granata adatto il contenuto esplosivo, cosa fate tu? Botea Cosa hai fatto? Marco occhio Mamma mamma Marco è nascosto No bastardo, sta per morire, mancava poco che morisse Ha peccato la bomba, peccato la bomba Occhio Mi guarda a piantare i capucci Nooo Nooo Ma avevo querido aspettarte Cazzo è sto casino Gua Parcasino Eh noo no 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 Non ancora Nooo Nooo Ma mi stavo cagando in mare Oh comunque grazie anche a me che ho sparato dietro mi sono sbudellato visto che mi ha crivellato questo pezzo di merda non lo so ero morto guarda te eh sì eh sono morto io uno campanile no bastardo marco ancora una volta usato la tattica occhio è una bastardo di marco perché io voglio sempre che palle no per poco per poco è l'unico coglione che so che è morto sono stato io proprio persa del pietro credo adesso partito che ero già incorteato che maledetto ma che sono nascosti eri l'accappato via 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 marco che si lancia che bar da su vio parla acqua ma che bene che bomba che bomba che attirai in alto che papina oh marco marco quando si passa di qua c'è il direciso oh ma vaffa porca puttana maledetto maledetto ma qualcuno che le flashbang oh come che mi ho perso la bomba qualcuno me l'ha lanciata cazzo nooo sei una da sola da solo finì di buttare fumogliene pa il cazzo no la seconda volta che miro lì non te cazzo che cul de merda che te che ho oh c'è che marco lì in alto a destra a destra a destra a destra ti ha po' ti venisce che una bomba dindy dindy gass da pro difendetemi dindy varei che dei po' di disinescare dai su 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 uuuh eh aaah oo aaaaaah shiii ahahah 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 ssh Christian non buono non siamo più amici ma come manco mi occupa anche a me uno no bastardo era sulla scala no è sulla scala sinistra sinistra era sulla scala il bastardo ok sulla scala occhio è sulla scala in teoria oppure vado fuori da uno che laggava ma dov'è? dov'è? se io gli era io vissi passare dimmi gotti, stira che lampigia è rosso e andati anche a forza di coglione ah come io nooo 7 di danno, attenzione 75 io ah c'è un porto qua ho speso mie 50 euro le bombe devo fare kamikaze dai che mi scemo dai che mi scemo eh dai eeeh caccaro le cobra colco di dio ma è dito uno su, uno su occhio uno su occhio ma è dito ma perchè può dova adesso? può dova su, lo su, lo su che io che se è marco che mi ha sudato il trio oggi oggi no, gira a sinistra sinistra, sinistra, eccolo lì eccolo lì no sono i due a sinistra, 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 sinistra eccolo lì c'è oh veramente oh ciao attenzione adesso è una pistomiglia ricordati sempre partiti che ci sono no 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 gis no quel cazzo oh adesso siamo nella merda però no che sento delle fucilate no ma vai figa male di aspetta adesso si cambiai ove il mio voglio anche sparare non voglio anche sparare non voglio anche sparare ciò che è no è che si un bar lei è a mira di un agino eh tutti morti ti 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 ahahah 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 Marco ti sei troppo abituato ma madonna sono per amore scale 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 occhio oh 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 grandi no no vado pure da christian cos'è possibile tanta merda no che l'acqua è sporca ma ti ne manate adesso prima sono il mio po' droga che mando anche le coordinate no ma infatti tira 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 c sì che non è vero no l'orto s occupato ma l'ona ha tolti i suoi capuzzi ocio mamma mia uh uno ma non è vero cd io ho scaricato un caricatore da ossa mi occupati due contro due qua principiante eccolo eccolo e vai no a marco è morto ok niente ok ho vinto no chi vuole la bomba è stato tutto io sono un coglione no 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 sono morto come un coglione dal fatto che mi vedo gli umaneti in cravata che i nostri ah no aspetta sono in vantaggio sei in vantaggio è vero siamo terroristi noi adesso no alberto devi selezionare la bomba e poi premere il tasto bambini non c'entete dare il fuoco al lomboli ah è l'anelette occhio attento 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 marco è andato via sì ok oddio è il mio cadavere ciao ma chi cazzo sei che la tirai si il culo a froggia boi cazzo sei andai tutti mamma oh ma te i cazzi tui ma io ti versi va qua veramente te che è un ingegno form Jeremiah no ah porca serve partito di troplo le bagherete cara 33600 no vabino vuole la bomba ma pra tre prima calzone no cazzo stavo mirando no solo matti siamo in mano del tocco io marco o dici dici pari se ce l'ha nel culo in poche parole 3 contro 1 ma si a tutti i morti si fa io ho fatto fuori uno ma il caglio ha fatto fuori un altro no 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 lì matti gira a destra gira a destra matti guardi ma guarda che no per deline abbiamo amati l'esploratore che che si è dato fuoco il coglione ma per me è anche l'edit non dare a caccia di un mare il cesso a destra si se c'è tutti quanti i camperati guarda 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 uno la uno c'è sopra sopra campanile 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 come sopra il campanile come si è fatto a brincarlo edo edo tv e ora ma che cazzo ti fate no ho perso la ho perso la quella pistola in mano bellissimo adesso non passare di là sennò muoio ma dio no 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 capito a spiegarmi come cazzo l'ho fatto arrivare lì in due secondi no io come ho fatto a morire eh ieri tu ho fatto arrivare a cagato eh matti addio hai vinto guarda che bastardo è troppo veloce ora che io sono morto quattro volte là al stesso punto sempre sempre in là aspettate guardiamo che fulato signora guarda va bene dai no non andare lì morirai vabbè muoio io ok no niente ok no ti ha proprio No! No! Dai! Ma dai, ma non è possibile! Sinistra! Ma dai, come cazzo si fa? Attenzione, Matti! Lei saltà, l'ho brinca tutte le volte che l'era in via a saltar, e niente! Ah, ma no! Svietarla da basso e vieni! No, mi ho visto Podoka, mi piace appare a manetta, mi sono cuccialli nella parte! E io! Ma di casa manca! Ah, ma quindi è casi! Casi, Matti! Casi, scale! Casi, fino, ma... L'altra scale! Bravissimo! Bravissimo! Bravissimo, bravissimo, Matti! Lì, lì, lì! Esatto, lì! Vai su, Giulio! Adesso a sinistra! Vai, 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 vai! Vai a rimbalzare! Ma pirente là, no? Pirente lì, Matti! Poco più là! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Avanti, avanti, Matti! No, a sinistra, a sinistra, Matti! Lì, a sinistra! No, a destra! Diagonai, diagonai, diagonai! Vai, diagonai! Che tu vabbè di figa, lui! Dio! Vabbè, rucciana, rucciana! Ah, so via come Pudoi che dico che sei dentro l'acqua, che sei via noare. Annoare! Ah, vai, vai! Annoare, assasà! Guarda che singa rumore! Esatto! No! Occhio! Ma Dio! Agri, te ne vengono a comprare! Unibiso, unibiso, unibiso! No, 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 no! Casi, stai sparando! Che cazzo, sei a Mipudoi! Ah, in figa! Ha fatto cagare in mano, vaffanculo! Cosa? Alto fuori! E sono in atto! Bene! Gio, un micro! Chi manca? Noi, G, biga, G! Noi, non! Noi, G, biga, G! No, ma sono da solo? G! E G fu l'ho e... In tre! Vai, butti! Butti un attore! Sì! Aiaiaiaiaiai! So quasi morto io! Allora, vediamo a tutti! No! No, non mi ha toccato! No, non mi ha toccato! No, non mi ha toccato! Non mi ha toccato! Non mi ha toccato! Non mi ha toccato! Oh! Ma dei! Vabbè, no a te! A te! Ciao! Ciao! No! No, dai! Te lo devo sparare in bocca! Ancora? In bocca! Comunque che c'era Marco il suo! Eh, comunque la bomba ce l'aveva Matti! Marco, sicuramente lei non vi a guardare la bomba! Ah beh, sicuro! Eh, e ora la bomba è sul negociato di fianco al campanillo! Sì, ma nessuno la può andare a prenderla! Beh, è uomo mio! Eh, ma perdiamo il round se no... Ma che cazzo? Ma che cazzo è sempre molto... positivo? Beh, perché io voglio essere positivo! No! Sinistra! Eh, grande cazzo! No! Sì! Che bella posizione Cristian! Veramente molto... Molto sobri! Ottima descrizione! Ah, quindi a sinistra! Ah, la! Ah, la! Ah, la! Ah, la! Ah, la! Nooo! Non l'abbia visto! Se devi andare a stracarlo qui dentro se devi andare! Questa è la vendetta di prima! Terzo killer quadro blu! Eh... Madonna! Cazzo si trifecta, tio! E con questo abbiamo concluso! Grazie dell'attenzione e arrivederci! Bella raga!